Nell'ambito dell'Assemblea elettiva ed ordinaria delle Proloco UMPLI-Basilicata, tenutasi domenica nel Palazzo Ricciardulli a Rotondella, è stato eletto consigliere regionale UMPLI-Basilicata per il bienio 2023-2024, Entoni Gallo, presidente della Proloco di Corletto-Perticara. Ha approvato anche il bilancio consuntivo dell'anno 2022. Nell'occasione è stato presentato il rinnovato sito web dell'UMPLI-Basilicata, curato da Vincenzo Salvo, presidente della Proloco di Teana. Il nuovo sito si pone l'obiettivo di essere il punto di riferimento web degli associate UMPLI-Basilicata, poiché in esso è contenuta la storia trentennale del comitato. La piattaforma si candida ad essere anche il luogo di scambio di idee tra le diverse sedi delle Proloco associate, in modo da avvicinare anche realtà territorialmente lontane. Voce alle Proloco è stato il claim dell'Assemblea, proprio perché si è voluto dare spazio alle Proloco Lucane, che in quanto espressione popolare di un territorio mettono in evidenza le potenzialità che ogni luogo può esprimere. All'Assemblea sono intervenuti Pasquale Di Matteo, vice sindaco del comune di Rotondella, Pasquale Gentile, presidente della Proloco Rotondella, Rocco Laucello, presidente UMPLI-Puglia, Filippo Capellupo, presidente UMPLI-Calabria, Piefranco De Marco, consigliere nazionale UMPLI-Basilicata, e Vito Sabia, presidente UMPLI-Basilicata, che ha dichiarato Questo momento nasce dal desiderio di dare voce alle nostre Proloco e condividerne i valori di principi, con l'obiettivo di promuovere le iniziative e le attività che esse svolgono in tutta la Basilicata, mettendo in luce quanto prezioso sia il lavoro dei nostri volontari che non si perdono mai di animo.